Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia e in studio Nicola Giannattasio. In A1 ci sono code in uscita a Firenze Scandici e a Firenze Sud provenendo da Bologna. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti tra Prato Ovest e Firenze Ovest e code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla Fipili in direzione Mare, un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Montopoli, Valdarno e Ponte della Est e rallentamenti in direzione Firenze tra Firenze e Scandici e l'allacciamento A1. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, a Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso sui viali, per lavori di publie acqua da oggi fino al 7 febbraio tra Ponte Vecchio e via Guicciardini, chiusura di via De Bardi. Oversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!